Salve a tutti, oggi andremo a vedere come smontare i fanalini delle frecce anteriore laterali di un Alfa Romeo 147 seconda serie il tutorial è valido anche per la prima serie per Alfa Romeo 156 e Alfa Romeo GT e anche per Lancia Delta ultimo modello, la Lancia Epsilon sempre ultimo modello e la Fiat Bravo ultimo modello io andrò a smontare quella lato guida, la procedura è la stessa dobbiamo delicatamente tirare dalla parte questa qui diciamo anteriore dell'auto dalla parte anteriore quindi dove troveremo questo angolino che sta nella parte dove c'è il fanare diciamo anteriore la tireremo spingendo verso il posteriore e tireremo in contemporanea tutta a destra e anche verso di noi ecco qui in modo da insomma spingere questo gancetto qui troveremo l'incanalatura che spingeremo il gancetto così all'interno spingendo verso destra e faremo uscire questo incastro dal parafango poi ruoteremo in senso anti-orario questo incastro qui della lampadina della spinetta in senso anti-orario per toglierlo poi per rimetterlo faremo in senso orario facendo incastrare questi due linguette una sopra e una sotto qui nella sua alloggio poi per sostituire invece la lampadina basta tirare la lampadina verso di noi e troveremo che si sgancia dall'incastro della spinetta io adesso metterò delle lampadina nuova la lampadina nuova perché questa che ho montata fa poca luce in quanto avevo acquistato precedentemente queste lampadine ma di un marchio diciamo economico dovrebbe essere lampa oppure cinese ora non ricordo bene comunque fanno poca luce diciamo non è molto arancione diciamo da più solo il rosso quindi non mi trovo bene con l'illuminazione perché in quanto queste macchine qui originali mondano questo tipo di lampadina proprio questa che ho che vi faccio vedere adesso le ostra con questo codice qui queste qui come andremo a vedere adesso lo scarterò vedremo che in pratica anche il colore è differente del bulbo della lampadina qui avremo una lampadina diciamo più sul arancione chiaro proprio è anche all'interno è differente la diciamo la la come si può chiamare il filetto della luce quindi per fare una luce perfetta come originale molto mi consiglio di mettere queste ostra io le ho ordinate su ebay perché da due o tre ricambisti non le ho trovate ho avuto difficoltà a trovarle queste ostra altre marchi ho trovato ma dopo troverò lo stesso problema di illuminazione adesso vengo a rimettere la lampadina così facendola incastrare qui nel suo alloggio prima di montare tutto perché altrimenti rischiamo che montiamo la lampadina e poi non funzioni e dobbiamo rismontare il fanale quindi prima di montare il fanale vediamo che funzioni la lampadina potremmo accendere anche le quattro frecce ok questa funziona adesso rendo a rimontare il fanale poi girerò la spina facendola incastrare nei suoi alloggi con questi due questi due diciamo pezzettini di plastica che ha la spinetta e poi girerò in senso orario ok adesso che faremo? faremo incastrare prima la parte questa qui l'anteriore dove c'è l'incastro qui e poi spingeremo ok il lavoro così è terminato della parte lato destra il diciamo la procedura è sempre la stessa anziché diciamo troveremo soltanto ci troveremo al lato opposto ecco e basta sono la procedura è sempre questa anche per la per diciamo la prima serie avremo un fanalino più piccolino rotondo però la procedura è sempre la stessa avremo solo le differenze il fanalino più piccolo ma dietro l'incastri la molletta è sempre fatta uguale il procedimento è sempre lo stesso alla prossima l'incastri